Ciao raga, bentornati sul mio canale youtube, oggi è mercoledì, torniamo con un altro appuntamento di questo o quello, una rubrica che vi sta tanto piacendo dove andiamo a risolvere i vostri dubbi Mettetevi comodi perché come al solito sarà un video lungo, non disperate se non risponderò alla domanda che mi avete lasciato perché ogni volta sono tanti tanti commenti e il video verrebbe veramente un'epopea se dovessi rispondere proprio a tutti Quindi cercate di essere celeri nel lasciare i commenti qui sotto questo episodio per poi vedere la risposta nell'episodio di settimana prossima Passiamo subito sulla schermata del video precedente appunto e iniziamo con la domanda di Jacopo il quale chiede meglio Mbappé o Neymar? Allora qui se stiamo considerando cosa che credo le versioni base di Mbappé e di Neymar io vi dico nel ruolo di punta vado a utilizzare Mbappé, nel ruolo di esterno vado a utilizzare Neymar Questo perché secondo me Mbappé comunque davanti alla porta nonostante non abbia il 5 di piede debole finalizza un po' meglio di Neymar e Neymar ha un po' più di qualità in quelli che sono i passaggi quando lo mettete sull'esterno Complice anche 5 di skill, 5 di piede debole quindi secondo me lo andrei a utilizzare in questo modo Kerim Meminage spero che si pronunci così chiede Rashford live o sonda punta tutta la vita Rashford perché sapete quest'anno quanto io prediliga i giocatori con 5 di skill Rita ci fa sapere che ha finito le video lezioni mentre Daniele ci chiede Busquets 90 e Fer possono giocare insieme in un 4-4-2 Mendy Bergici e Todibu e Atal ci stanno come difesa se non cambio con Fer Ci sta assolutamente Busquets e Fer come mediana perché Busquets è un giocatore alto fisico che imposta anche bene e difende Fer invece è un giocatore un po' più completo, un Gullit Gang si completano perfettamente La difesa con Mendy Bergici e Todibu e Atal ci sta Una difesa praticamente composta per la maggior parte da Terzini come richiede quest'anno il gioco Quindi ci sta assolutamente Cristiano De Luca, Joe Gomez if o Van Dijk base tutta la vita Joe Gomez if ormai abbiamo imparato a conoscere Joe Gomez per il giocatorone che è compice anche la sua stazza fisica e la velocità Cosa che Van Dijk non ha Mattia Feniello, meglio Varan base o la Port Rule Breaker tutti e due non scambiabili Tra i due continuo a preferire Varan anche se ormai Varan base come vi ho spiegato inizia a fare veramente tanta fatica Infatti anche io nella mia squadra l'ho sostituito Nadir Merico, Mediano Icon entro i 600k da parte a Firmino Freeze Io avevo pensato a Sedorf Baby Secondo me Firmino Freeze è meglio di Sedorf Baby Se volete andare a cambiare Firmino Freeze io andrei piuttosto a utilizzare un giocatore un po' più completo Come può essere magari un Bruno a versioni molto elevate o un Renato 84 Non andate a prendere le Icon ragazzi Sempre e solo perché pensate che siano Icon Poi se serve per forza un Icon piuttosto aspetterei un pelo e prenderei Blank Baby Ivan Zarcone La mediana Renato Europa e Bruno Potme è troppo offensiva Meglio questa o si so che Europa e Bruno? Guarda Renato Europa e Bruno Potme è la mediana che sto utilizzando praticamente da mesi Assolutamente non è troppo offensiva Anzi è molto completa Hai difesa qualità nel possesso palla Quindi vai tranquillamente con Renato e Bruno Si so che non mi piace perché è troppo macchinoso Hai trovato Balak Mid Non hai speso niente Ci sta Ti invito ad andare a vedere Samuele Quello che è il video sulle icone Prime Mid e Baby che trovi sul canale Dove vi spiego un po' quello che ne penso di tutte queste carte qua Rita poi dopo aver finito le video lezioni ci chiede Sonedliner o Rashford? Qui ancora una volta vado sempre su Rashford per il discorso che ho fatto in precedenza Amedeo Rotellini Secondo te la difesa Smalling Futese Desely Icon Prime Con terzino destro Bruno Perez E terzino sinistra Tra orei può rendere Se no consigliami una difesa strong Allora tu qui hai una difesa molto molto completa Immagino anche che Desely Prime siano scambiabile Quindi ci sta Ottima coppia Smalling Desely Bruno Perez dopo l'upgrade Il suo lo fa E' diventato una sorta di cafu moderno E ad Amatro Red Da terzino Conosciamo tutto il giocatore che è Quindi ottima difesa Samuele Masci chiede Teo Hernandez o Dalù Da DC Onestamente io preferisco Teo Hernandez Visto che è un po' più fisico Più rapido E quindi andrei a utilizzare lui Luca Mancini Ricorda il meme di Marco Mazzocchi Che mi ha chiamato Ribery In una diretta Instagram Mentre Gianluigi Cordua chiede A fianco a Neymar Come punta che finalizzi Meglio Cristiano Toti R9 mid o Pele Prime o Cruyff Prime Al momento è Cristiano 95 Fortissimo ma ogni tanto sembra risentire In termini di agilità nei gameplay marci e lenti Allora Gianluigi Tu hai già Neymar E siamo perfettamente d'accordo Tra tutti questi qui Quelli che hai scritto Il più forte è indubbiamente Cristiano Toti Anche se hai ragione Alle volte risente un po' del gameplay marci E siamo d'accordo Però a quelle skill buggate Quella prepotenza di fisico Eccetera eccetera Che alle volte Gli permette di poter rimbalzare Anche sugli avversari E vincere in palle E andare in porta Tra tutti gli altri Sempre per il discorso agilità Ti suggerirei Pele Perché R9 preferisco il Prime E Cruyff Lo utilizzerei più da C o C Visto che non ha una grandissima potenza tiro Proprio come Neymar Quindi ti ritroveresti praticamente Con due giocatori simili Che magari nel momento del bisogno Tirano male Quindi la mia classifica personale Cristiano Toti Pele Prime R9 Mid E Cruyff Prime Quindi prova così Andreas Maisto James 87 TD Ombabu switchato Anche rapporto qualità prezzo Allora Rapporto qualità prezzo James Non c'è niente da fare James raga è più rapido Babu è un giocatore un po' più fisico Quindi risponde peggio A quelli che sono i cambi di movimento rapidi All'interno di rigore Fatti dalla punta avversaria Di conseguenza Andrei piuttosto A prendere il buon James Anche se costa un pochino di più Roberto Utopila Blank Baby Orenatino Sanchez Col primo che non è scambiabile Guarda Se hai una squadra già completa Fai il sacrificio sul Renato Che per me è più forte Altrimenti Se non hai una squadra completa Tieni Blank E migliora quelli che sono gli altri reparti Lorenzo De Padova Modulo 4-2-3-1 in game Con tre quartisti Kakà Di Bala Moments Papu Champions E Kakà Baby Può giocare come COS Assolutamente sì Lorenzo Come ho detto anche nei vari video Delle Icon Kakà fa molto bene Il ruolo d'esterno Da DC Vicino Varane Chiede Jack Newgate Diego Carlos Sto Teo Hernandez Io ti direi Teo Hernandez Visto che è più rapido Più fisico Eccetera eccetera Anche se quel Varane Sei il base Occhio Perché come vi dico Ormai risente un po' Alessandri Limanni Scambiabili Amen Barrizzali E se vuoi giocare Col 4-3-1-2 Necessariamente bisogno Di un giocatore Un po' più difensivo Ale 1-2-3 Rio Ferdinando 90 Ocambel Moments Io andrei sempre Sul Rio Ferdinando 90 Raff Uno tra Neymar Ma per Ronaldo Tutti oro Da usare Attacchi al fianco Adibala Sapete Quella che è la mia Passione Per Ronaldo Da punta Francesco Amendolaggine Ribè Mi sapresti dire Se for Terry Prime Franci E' uscito la tier list Delle Icon Prime Ti invito ad andare a guardarla Magari l'hai già vista Scoverai la risposta Gippo Gippone Ci chiede Stai provando il 3-5-2 No 3-5-2 Guarda che io te lo trusto Come modulo TS Kurzawa Moments Gomez If DCS DC Deselli Mid DCD Trent Toti Tavernier ACC Con Kimmich Toti SN Bruno Potm Neymar Rushford Vale appena tenere 900k su Trent Che non ti piace Da terzino Ma DC a destra Fa il suo Allora Onestamente Lì tu potresti anche Andare a sostituire Trent Toti Con James Secondo me Lo paghi meno Ti rende meglio E ti vai magari A mettere crediti da parte Per poter fare Un eventuale upgrade Magari per un Neymariff O una carta diversa Sotto questo punto di vista Perché Secondo me Ti troveresti meglio Con James Quindi prova Mirko Volterrani Chiede Consigli su come dividere il budget Mirko Purtroppo A livello di compravendita Io Ci capisco poco Per quanto riguarda La squadra Invece Sicuramente 40% Attacco 30% Difese E 30% Centrocampo Diciamo che ci posso stare Sicuramente Centrocampo E difese Sono importanti Quanto l'attacco Quindi in realtà Sarebbe quasi Un 35 35 35 35 Da fare Però Alla fine Ci può stare come ragionamento Non fatevi comunque Troppi calcoli scientifici Su come andare A dividere budget Cose Rob Cioè Pensate A prendere i giocatori Che volete provare Visto che comunque Ormai ci andiamo A dirigere Verso la fine del gioco Che mi sembra pure giusto Grekul Ci chiede Vicino a Kimi Toti In un centrocampo a due Meglio De La Ney o Goretzka Tutta la vita Goretzka Il giocatore è pazzesco Grekul Fortissimo Giocomets base O if O Campbell Andrei tutta la vita Su Giocomets if Paolo chiede Teo Headliner o Gomez Accanto al Rio Prime Gusto mio personale Gomez if Perché è un pelino Più agile Rispetto a Teo Andrea Rizzi In ordine Che è più forte Tra R9 mid Cristiano e Mbappettoti Senza battare a spese Mbappettoti R9 mid Cristiano 95 Per come la vedo io Ciao Nana Hai la difesa Reguillon What if Maldini Kleiber Pereira What if Rispettivamente TTS DC DC TD Però in panca Van Dyke E Laporte Come la sistemerei Allora guarda Tranquillamente Come l'hai messa Van Dyke E Laporte Stanno bene Dove stanno in panchina Visto che fanno un po' Di fatica Arrancano Non sono proprio Speedy Gonzales Sotto questo punto di vista Andrea DJ 99 Puoi mettere in ordine Dal migliore al peggiore Varan Uccelli Live Maldini Mid E Desa Prime Guarda Praticamente Come le hai messi tu Quindi Varan Primo Maldini Secondo Desa Ultimo E affiancare A Ted Liner Metterei Ormai Il buon Varan Uccelli Live Che è diventato Praticamente Un Toti Stefano Carrassa Giochi in game Con un 4-2-3-1 Mentre per fare l'intesa Parti con un 4-3-3 Con Lunin Varan Jordi Alba Quondé Tavernier Sergio Busquets Eusebio Nemar A destra Mbappé E Cugurella Che metti Cici Ti manca un esterno Cio Cico 700k Chi metteresti Vorresti anche Cambiare Quondé Allora Avendo già Il buon Varan In difesa Per cambiare Quondé Potresti sicuramente Andare a mettere Magari Un Diego Carlos Headliner Piuttosto Invece Se ti serve Con 750k Hai una situazione Problematica A livello di intesa Ci dovresti andare A mettere un Icon Magari potresti optare Nel caso di esterno Per un KK Che il suo Lo fa e non sfigura Giuseppe Pio Spataro Renato Oppure Sedorf Tutta la vita Renatino Mentre Jacopo Zanella Chiede Miglior DC Icon Sotto i 900k Io opterei Sempre per Una versione di Ferdinand Se si riesce a prendere La Baby Non sono molto Accionato sui prezzi Altrimenti Andrei magari Su un Campbell Che il suo Lo fa sempre Lorenzo Sandrelli Nel 4-3-1-2 Avendo una difesa Varambase James E un centrocampo Canté Renato Jones E mei upgradare La difesa O il centrocampo Io andrei Tutta la vita A cambiare Sto Varambase Loerei Perché sto Varambase Ormai Veramente Puzza Ma puzza In maniera pesante Quindi Andrei su di lui Vincenzo Laudato Best 90 Salah 92 O Garrincia 90 Come un ATD Non skilli Guarda Skilli o no skilli Ti dico comunque Garrincia Perché è il più agile Quello che finalizza meglio Quindi se magari ti viene Una skill pure fatta a caso Andrei su di lui Tecnoid Hai caputo come ATTS Divisione 5 Va bene Malquith What if Secondo te è valido Allora Caputo Il suo lo fa Un attaccante pure simpatico Era gratuito Quindi se ti trovi bene Io te lo approvo Mentre Malquith What if È un terzino Molto molto valido Quindi ci sta Assolutamente Lollo Madeo Pope Walker Vambissaga Gomez Requion Cantendidi Rashford Gomez Fute 6 Messi base di bala Cosa ne penso Bella squadrettina Magari punterei a togliere Quel Vambissaga Lillo Con un gioco Metsif Che ormai pure Vambissaga Insomma 800 euro Treicone Emanuele Per il meme Mentre Francesco Grasso Chiede Mettere Mbappu Difensore centrale Ci sta Assolutamente Sì Se lo riesci a switchare Lo faccio anche io O lo uso Super Sub Visto che l'ho trovato Non scambiabile Mario Rossi Un salutone 4-4-2 Che diventa 5-3-2 Con una Premier Modric Onestamente Non l'andrei a dibridare Ai centrocampo Pogba Cantesi Soko Mentre ai difesa Walker Gomez Akemen Di Cancelo Allora Onestamente Andrei a togliere Quella che è Magari puoi mettere Anche Non so Un Laporte Rule Breaker Che è meglio di Ake Sicuramente Sotto sto punto di vista O a un Varane Visto che comunque Ai Mendy Mentre Sissoko Per me è più forte Di Modric Quindi Modric Che è in versione Non scambiabile Onestamente Tienilo tranquillamente Nel club Dark Storm Meglio Deisa e Leon Maldini E tra Machele Prime Moments E vierà Allora Tra Deisa Prime E Maldini Tutta la vita Maldini Così come tra Machele E vierà Non c'è proprio partita Vierà E Tripo 300 300 300x Molto più forte Andrea Simone In un 3-5-2 Come metteresti Mbappé Neymar Cristiano Di Bala Tusi Cristiano Mbappé punta Neymar C E Di Bala Come esterno Sì Assolutamente Sì Andrea Come dicevo Anche prima Tra Mbappé Neymar Preferisco Mbappé Punta In questo caso Neymar C Tanta roba Di Bala Col 3 di piede debile Mettiamolo sull'esterno Cristiano Sensi Come dici E meglio Smalling 90 Teo Headliners O Cannavaro Prime Qual è il mio ordine Ti dico Teo Headliners Smalling E Cannavaro Prime In questo In questo preciso ordine Simone ci dice Che l'audio è basso Onestamente Non capisco perché Visto che è lo stesso audio Di tutti i video Ogni tanto Su 10.000 visualizzazioni C'è uno che dice Che l'audio è basso Regà Alzate il volume Non so che dirvi Visto che In live Si sente sempre benissimo Frank Frank Promise Europa League O De Pai Tutta la vita Promise Mentre Mauro Panisson Chiede Eh Ah niente È solamente un salutone Grazie Mauro Gentilissimo Momo ASR Meglio difesa Kim Ben Pesif E Baran Con esterno Mané O Gio Gomez E Kyle Walker Con esterno Neymar Onestamente Andrei a mettere Gomez E Kyle Walker Con esterno Neymar Marco Cilio Come dici meglio Teo James E Sien Mid Renatino Accanto a Bruno Come dici meglio James Visto che è più agile Di Teo Mentre tra Sien e Renato Vai di Renato Andrea Onorato Consigli su come migliorare la difesa Con Roberto Carlos Mendy Walker Riff E Semedo Pensavo di mettere Gomez Siffa al centro Sarebbe meglio James A7 Sarebbe sicuramente meglio James A7 Ma potresti anche andare a mettere Gio Gomez Siffa al centro Togliendo Semedo E mettendo Cansello Quello della versione Champions Michele Lamacchia Hai bisogno di un mio consiglio Sulla tua situazione in squadra Con il 4-3-2 Hai Smalling E Akanjino Scambiabili Gerrard che si Evvierà a centro campo Dagli swap Ti fai l'icona 91 O più Con il rischio Che se trovi un'icona DC o CC utilizzabile Di togliere uno di quelli Allora Onestamente Michelone Io qua L'icona L'andrei a fare Perché sti cacchi Cioè se comunque tu trovi Un'icona a CC Sicuramente è meglio Di Gerrard Prime Credimi A meno che non trovi Lampard Voglio di E in difesa Il rischio di trovare Una carta che sia peggio Comunque di Smalling E di Akanjino C'è però Chi non risica Non rosica Quindi magari potresti Pure trovare un R9 Esotico E te l'ha svoltata Francesco chiede appunto Dove bisogna postare I commenti Esattamente nel video Precedente Quindi in questo Per il video Di settimana prossima Francesco Cussoni Closterman Upamecano Zagarian Babu Occhiellini Come DC Tra questi Andrei a utilizzare Onestamente Il buon Babu Secondo Closterman Upamecano Per la Per la sua Resistenza Non mi fa impazzire Poi Zagaria E poi Chiellini Not Voltrek Esterni Oale Con Budget 200k Dipende Dalla squadra Comunque sul canale Trovi quelle che sono Le varie top Terzini Eccetera Eccetera E compagnia Alessio Alessio Bellasio Pensi che Blank Mid Si possa portare Fino a fine Gioco Purtroppo No Visto che Già non è veloce E con i toz Usciranno Giocatori Ultra Boostati Ruben Neves Dà gli obiettivi Come cdc In un 4-4-2 Tranquillamente Lo puoi andare a utilizzare Visto che è una carta Non scambiabile E puoi Puoi testare con mano Se ti trovi O non ti trovi E nulla ragazzi Io direi che Per questo episodio Abbiamo risposto A un po' di domande Come al solito Siamo arrivati Quasi a 20 minuti Quindi non vi voglio Tediare troppo Ricordate di commentare Sotto questo video Per avere risposta Settimana prossima Trovate in descrizione Quelle che sono Tutte le informazioni Sulle live giornaliere Sulla piattaforma viola Raga Io vi abbraccio Un salutone Al vostro Liberoschi E ci si becca Ciao ciao